Buon pomeriggio! Allora, vi avevo promesso che vi avrei fatto vedere come ho eseguito questa nail art, me l'avete chiesto in tante e quindi ora ve la faccio vedere, guardiamo insieme come realizzarla. Arrivo subito che faccio le mie condivisioni. Ecco qua. Ciao Angela, benvenute ragazze. Allora, vi voglio far vedere come ho realizzato questa carinissima nail art che ho pubblicato proprio ieri. Me l'avete chiesta in tanti di farvela vedere e oggi ve la propongo. Allora ragazzi, ho utilizzato un semi permanente della linea Wonder Nails. Sapete che Wonder Nails è un'azienda che collabora con noi. Ho già provato, ho avuto modo di provare tutti i loro colori, tutti i loro sock off color e anche tutte le loro basi semi permanenti. Abbiamo già visto insieme quali sono le differenze. Vi lascio poi nel video che metterò su YouTube il link per andare a vedere la diretta che avevo fatto sui semi permanenti, le basi di Wonder Nails. Così poi andrete a vedere lì con calma e vedrete la differenza delle basi sock off. Qui ne ho giusto due, la Twin Cut e la Extreme Luck, che sono due basi top, con cui mi sto trovando veramente molto 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 bene. Però ne abbiamo già parlato, quindi per non tediarvi vi lascio il link delle scorse dirette. Grazie Francesca, grazie mille, sono molto contenta. Ciao Giussi, benvenuta. Sapete che io ragazze ho qualche difficoltà con le mani perché ho subito degli interventi e quindi cerco sempre di... Sì, mi fanno arrabbiare tesoro, si mi fanno arrabbiare. Cercano di sponsorizzarsi grazie al mio pubblico, al mio lavoro e quindi no, non mi sta bene e quindi mi arrabbio, sì. Comunque ragazze, sapete che io vendo problemi alle mani, cerco sempre di trovare materiali per poter creare nail art semplici, veloci, da salone, anche per chi come me ha problemi alle mani oppure è un po' negatuccia, perché ci sta, ragazze, bisogna avere la mano, ok? Bisogna anche un po' nascerci con la predisposizione a fare un certo tipo di lavoro. Io la nail art, diciamo così, manuale, ho fatto corsi di micropittura, anche abbastanza recenti, ma ragazzi, io non ce la posso fare. Quindi mi ingegno a cercare materiali e metodi alternativi, come può essere uno stamping, come potrebbe essere un foil. Ciao Anna, grazie, benvenuta. Come potrebbero essere anche questi stampini che ho trovato carinissimi in vendita su Amazon. Vi ho lasciato il link ieri, ma comunque ve lo lascio anche dopo. Ho preso anche nel kit, ci sono anche i fogli, vediamo se riesco ad alzare un po' la visuale, così riusciamo a vedere un po' tutto. Vedete, qui ci sono gli stampini e poi ci sono anche tutti i fogli. Io oggi userò questo qui rosso, è un foglio, ragazze, molto molto leggero e adesivo. Guardate che carina la nail art che ho creato ieri, veramente molto 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 carina. Ciao Tiziana, benvenuta. Allora ragazze, andiamo subito a vedere. Oggi la facciamo, questa l'ho realizzata con il Pure Red di Wonder Nails, che adesso ve lo faccio vedere. È un bel rosso acceso, molto puro, effettivamente, è un classico rosso Ferrari. Un bel rosso, ragazze, veramente molto molto bello. Ve lo faccio vedere anche steso sulla tip. Eccolo qua, guardate che bello. Si chiama Pure Red, l'ho anche sigillato con il top matte. L'altro invece è sigillato con il no wipe. Sono due finish, ragazze, di Wonder Nails, che adoro. Grazie, Crystal. Allora, oggi la facciamo con il rosso scuro e la voglio fare sigillata con il top matte. Vediamo cosa viene fuori. Sigillata. Vi faccio vedere la tecnica che utilizzo io per creare questa nail art. Vediamo un po', vi faccio vedere. Allora, ragazze, prima di tutto mi prendo una tip. Sapete che utilizzo quelle in gel, perché mi piacciono di più. Utilizzo una forma, un numero 4, perché sono quelle che preferisco per realizzare le nail art su tip. Ragazze, me la prendo, eccola qua. Me la prendo pulita. Mi prendo il mio espositore per tip. Eccolo qua, metto sopra la mia tip. Io non vado, ragazze, a bufferizzare, perché questi colori di questa linea, di questa azienda, non hanno bisogno di una superficie bufferizzata per attaccarsi. Ciao, ciao, Monica, benvenuta. Allora, ragazze, vado con il rosso scuro, così vediamo anche l'altra tonalità di colore. Guardate che bello. È un bellissimo rosso scuro. Vedete che non si ritira? Non si ritira perché non è proprio fatto così. La sua formulazione è questa. Facciamo comunque, ragazze, due passate. Guardate che meraviglia. Questa è la prima. Già bello coprente. Vado in lampada, 60 secondi, per polimerizzare il colore. Intanto, ragazze, vado a tagliare la forma. Prendo il mio foglio, inserisco il fogliettino nel timbrino, nello stampino. E poi vado a schiacciare. Ed eccolo qui. Il mio cuoricino. Guardate che carino. Allora, ragazze, lui vado poi a toglierlo dalla cartina di protezione, perché sapete che questi qui sono adesive. Quindi è anche molto facile da utilizzare. Eccolo qui. Tolgo la cartina di protezione. Ok. Me lo preparo. Eccolo qua. Ok. Poi, ragazze, vi voglio fare vedere un trucchetto. Per far sì che il mio fogliettino adesivo a forma di cuoricino si attacchi per bene. Adesso ve lo faccio vedere. Vado con la seconda passata di rosso scuro, perché è bellissimo, ragazze. Questo è veramente, veramente molto, molto, molto bello, questo colore. Ragazze, guardo sempre di profilo di aver messo il colore su tutto, su tutta la superficie. Ecco qua. Guardate che bello. Un bellissimo rosso scuro. Vado in lampada per bloccare. Ragazze, ve lo faccio vedere nella modalità sigillata con il top matte. Ragazze, perché voglio farvi vedere come risulta questo colore con il top matte. Poi, dopo, ovviamente, andrò comunque a sigillare sopra con l'Uifinish No Wipe, perché giustamente devo bloccarlo nella tip o comunque nell'unghia. Ragazze, vi facevo vedere ieri che potete anche utilizzare i ritagli, i tagli dello stampino. li potete ritagliare, utilizzare come stencil, se avete l'aerografo, con anche la spugnetta, eccetera, eccetera, oppure anche ritagliarli e poi utilizzarli direttamente sull'unghia. Magari sotto mettete un altro tipo di colore a contrasto e utilizzare proprio anche il foglio colorato. Si viene opaco, il cuoricino no, dopo comunque lo sigillo con il sigillante normale. Io adesso, per farvi vedere, e comunque sia, per far sì che il mio cuoricino si attacchi meglio, io vado a, diciamo così, sigillare con il top matte. Preferisco, quindi vado a sigillare con il mio top matte. Ok, guardo di non aver lasciato buchetti, se no non mi viene bene. Vado a sigillarlo in lampada, a polimerizzarlo. Sempre 60 secondi, ragazze. Ragazzi, i prodotti Wonder Nails sono tutti made in Germany. Eccoli qua, made in Germany, l'azienda produttrice dei loro prodotti. È un'azienda con cui io ho già collaborato in passato, con altre aziende, con altri, diciamo così, marchi, per altri marchi. E la conoscevo già, è veramente molto, molto valida. Quindi assolutamente, ragazze, ve lo garantisco. Ecco, ragazze, ovviamente noi dovremo andare a posizionare il cuoricino sulla nostra unghia, o comunque sia sulla nostra tip, io vado a dargli un po', diciamo così, ad ammorbidirla un pochettino, schiacciandola così, così almeno magari, vedete che si piega un pochettino, così magari dovrebbe rimanere un pochettino più, diciamo così, attaccata la nostra forma. Eccolo qui. Bellissimo, un bellissimo risultato, ragazze, un bellissimo top matte. Io vado a mettere il mio cuoricino, aspetta un attimo, che si raffreddi, poi metto il mio cuoricino, vediamo se riesco ad avvicinare un po'. Ecco qua. Lo posiziono ad esempio qui, e lui si attacca, essendo adesivo, alla superficie. Guardate che carino. Lo premo un pochettino, e lui si adatta benissimo, in questa maniera, alla superficie della mia unghia o della mia tip. Sapete che comunque queste sono tip in gel, adatte per la ricostruzione con le full cover tips, praticamente, quindi hanno una curvatura naturale molto, molto simile a quella dell'unghia, quindi viene proprio una nail art, veramente molto, molto naturale. Ragazze, a questo punto io vado a sigillare con il mio top. Ragazze, sapete che comunque sia, quando andate a fare una nail art, la superficie deve essere, vi consiglio, opaca. Quindi, o bafferate, ok, oppure passate un top matte. È la soluzione migliore. Quindi io passo il top matte, prima di creare la mia nail art, perché preferisco, preferisco proprio il risultato finale. Faccio anche prima, devo essere sincera. E non rischio di andare a togliere troppo colore. Dopodiché, faccio la mia nail art, la superficie comunque rimane bella liscia, grazie al top matte, e in questo modo posso creare la mia nail art con più sicurezza, ok? Ora vado a sigillare il tutto con il no wipe, finish no wipe. Ragazze, che a me piace moltissimo, perché ha una densità veramente molto, molto ottima, diciamo così, abbastanza denso. Mi fa anche da perfezionatore di superficie, essendo così denso. Poi no wipe, sapete che io adoro i sigillanti no wipe, perché mi facilitano assolutamente il lavoro. Ok? Quindi adesso io vado a sigillare la mia nail art con il top no wipe. Passo proprio su tutta la superficie, ragazze. vi consiglio un sigillante, comunque perfezionatore, quindi un pochettino più denso, perché io devo andare ad incapsulare il mio cuoricino nell'unghia, ok? Quindi mi vuole un pochettino di spessore in più, ok? Perché se no me lo sento. La ragazza, la nostra cliente, se lo sente, magari non le può dare fastidio, comunque sia, preferisco chiudermelo, chiudermi la mia nail art, ok? Sigillarmela bene. Ok? Quindi preferisco avere un pochettino più di spessore. Vado in lampada sempre 60 secondi. Vado a sigillarmi la mia nail art. Ciao Lori, benvenuta! Un orario un po' diverso oggi, ma ho avuto una videoconferenza fino a poco tempo fa, quindi non sono riuscita nel mio orario normale delle due e mezza. Ragazze, quando il lavoro chiama, quindi mi sono un po' adeguata con gli orari. Ciao Maria, benvenuta! Ragazze, benvenute! La diretta comunque rimarrà registrata con tutti i link per l'acquisto di questi prodotti. Mi stava chiamando mio marito, adesso gli mando un messaggio, scusate il volo, dicendo che sono in diretta, anche se lo sapeva. In diretta. Ecco qua. Eccomi! Ciao, benvenuta Barbara, benvenuta! Ragazze, vi chiedo scusa, se state entrando adesso purtroppo con la diretta già iniziata perché purtroppo non ho potuto oggi dire l'orario. L'aerografo lo puoi trovare su Michelle Nails. Abbiamo l'aerografo testato dalla nostra Susi Tutto Passa. Guardate che meraviglia! Guardate la meraviglia di questa decorazione, di questa nail art. Ciao Franca! Benvenuta! Guardate che bella! Poi ragazze, è ovvio, potete arricchirla, possiamo inserirci degli svaroschini, dei punti luce, possiamo inserire qualche anche rigoro fatto a mano. Ok? Adesso io l'ho fatta molto molto semplice per farvi vedere comunque che anche con pochi materiali ma quelli giusti si possono fare si possono ricreare delle bellissime nail art ragazze d'effetto da salone veloci che le vostre clienti ameranno. Guardate che carina! Molto 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 carina ragazzi! In versione più red e in versione rosso scuro. Certamente ti posso lasciare anche il link guardate che carini! Veramente molto molto carini d'effetto ragazzi! Ho utilizzato per creare il cuoricino lo stampino e ho utilizzato la carta rossa questa qui che comunque è compresa nel kit Amazon che vi ho già sponsorizzato ieri vi ho fatto una diretta ieri sponsorizzata Amazon e comunque vi lascio il link anche di questo. Abbiamo anche tantissimi altri motivi da ricreare guardate che carini anche l'alberello anche eccolo qui lo perdo per strada anche il fiocco di neve sono veramente molto molto carini ragazzi ce ne sono veramente tanti nelle prossime settimane ve lo ricordo anche oggi nelle prossime settimane inizieremo a parlare di Natale e vi proporremo nell'art vi proporremo anche diciamo così proprio prodotti da acquistare per andare incontro a Natale allora tesoro la carta adesiva è sempre nel kit che vi fornisco tramite link Amazon trovate tantissimi altri colori ci sono dieci colorazioni dieci colorazioni per dieci stampini per dieci stampini ragazze ci sono tante altre formine dopo vi lascio comunque il link si è sempre su Amazon ragazze si fanno veramente delle nail art velocissime e al volo vi voglio far vedere gli altri colori della linea che io adesso che sto utilizzando di Wander Nails tra l'altro me le sono messi anche sulle mani con già una ricrescita paurosa però va bene e mi piacciono moltissimo ragazze mi piacciono veramente tanto sono ottimi ottimi sock of color assolutamente resistono quelle quattro settimane perfettamente ragazzi sono dieci formine ve li faccio vedere aspettate che alzo l'inquadratura perché se no non riuscite eccole qui sono tre sei nove e dieci dieci formine dieci formine dieci fogli adesivi colorati vengono tutti insieme dieci euro se avete Amazon Prime come ho io la spedizione è gratuita quindi spenderete solo dieci euro e li avrete in un giorno perché a me sono arrivati in un giorno con Prime ragazze questi qui sono le nail art che ho voluto presentarvi in questi due giorni con i colori con i sock of color wonder nails prodotti veramente meravigliosi chi vi consiglio sono comunque il link Franci lo trovi nella diretta di ieri ma anche nella descrizione del video che ho messo su youtube ieri quindi li trovate ma comunque ve li metterò poi qui sopra la descrizione di questa diretta così li trovate con più facilità sono veramente molto carini e secondo me per il periodo natalizio che dobbiamo fare delle nail art veloci che tutte le clienti ci chiederanno delle nail art perché ce le chiederanno tutti avere delle cosine così da poter ricreare dei nail art veloci è veramente molto molto dai facile e veloce come lavoro poi se li abbinate ai colori pure red e rosso scuro di wonder nails ragazze siete a cavallo comunque ragazze nelle prossime settimane vi faremo tante dirette quasi una al giorno oltre ai corsi ovviamente in vendita che faremo corsi formativi gli eventi formativi il giovedì da qui fino a dopo pasqua avremo tutti i giovedì impegnati in eventi formativi con la nostra master Laura Maggioni io vi farò comunque anche Laura Maggioni altre dirette su su queste aziende che sponsorizziamo con le quali lavoriamo ragazze perché per noi è lavoro abbiamo proprio delle vere e proprie affiliazioni vi farò vedere quali prodotti potete acquistare da queste aziende per appunto proporre poi alle vostre clienti colori natalizi decorazioni natalizie diciamo così più semplici possibili spendendo il giusto ok ragazze questi sono i prodotti wonder nails vi faccio rivedere anche gli altri colori che ho comunque vi lascio poi ragazze anche i link alle dirette in precedenza che avevo fatto sempre per wonder nails per spiegarvi i loro sigillanti i loro si so cough call avevo fatto la sesura in diretta quindi ragazze vi lascerò poi tutti i vari link sono prodotti eccezionali veramente eccezionali io sto mi sto trovando veramente molto molto bene con loro con questa con questa azienda quindi ragazze avete visto quanto ci è voluto poco per ricreare questa nail art ci ho messo veramente pochissimo ed è veramente molto 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 carina la possiamo riproporre con tantissimi altri sfondi colorati la possiamo riproporre anche con tantissimi altri fogli colorati quindi con il coricino o le altre forme con altri fogli colorati ragazzi io vi devo però mettere in guardia perché su Amazon ce ne sono tanti altri di questi kit ci sono anche tanti altri fogli in vendita ieri una ragazza mi chiedeva quali fogli acquistare e gli ho detto guarda non ti preoccupare vado a cercare il link Amazon e te lo lascio per acquisare soli fogli no ragazze io i fogli che ho trovato su Amazon sono tutti troppo spessi non vanno bene questi sono gli unici che ho che ho provato anche gli altri sono gli unici che ho trovato che vanno bene ragazze per questo tipo di nail art perché sono poco spessi sono molto morbidi invece negli altri inserzioni Amazon sono troppo spessi quindi non ve li consiglio vi consiglio questo link si si Angelica rimane salvata e poi comunque la metto su Youtube sul nostro canale Youtube Passione Onicotecnica quindi mi raccomando ragazzi io ho testato per voi fogli e timbrini questo è il kit che io mi sento di consigliarvi perché secondo me è quello migliore come tutte le aziende che sponsorizziamo perché noi siamo affiliati anche Amazon tutte le aziende che sponsorizziamo tra cui Wonder Nails sono aziende che noi testiamo personalmente e sono aziende che vi mostriamo perché sappiamo quanto valgono ok ragazzi mi fa piacere che siete sempre più numerose che ci guardate sempre in tantissime siamo veramente un numero strepitoso quasi 12.000 persone nel gruppo Facebook qui siamo più di 5.000 followers su Instagram anche quasi 10.000 followers quindi ragazze grazie grazie veramente tanto ragazzi io direi che per oggi siamo a posto io vi ho fatto vedere questa carinissima nell'arte che vi avevo mostrato ieri che mi avete chiesto in tantissime di mostrarvi domani saremo in diretta con Vanessa Nails perché vi mostrerò la nuova lampada in offerta per noi e quindi ragazze grazie di avermi seguita anche oggi in questa diretta un po' flash per appunto problemi lavorativi miei e ci vediamo domani con un'altra diretta grazie mille ragazze vi voglio veramente tanto 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 bene grazie ragazze buon pomeriggio e buon lavoro a tutte